Ciao MiciGatti e MiceGatte! Oggi qui con Oscar voglio proporvi un video in cui Valerio Guiggi, che è veterinario che si occupa anche dell'alimentazione del cane e del gatto, vi parla di calcoli e di cistite relativa ai calcoli e di come si possono curare e alleviare queste patologie e prevenirle anche tramite l'alimentazione. Questo video è stato ripreso live sulla pagina Facebook di Miciogatto, quindi vi invito anche su Facebook a cercare miciogatto.it e a cliccare mi piace per non perdere le future live che faremo con i nostri veterinari. Vi lascio ora il video, scrivete pure i commenti qui sotto, eventuali domande per il dottor Guiggi e vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Miciogatto premendo su iscriviti qua sotto e anche sulla campanellina rossa per ricevere tutte le notifiche dei futuri video. Vi lascio, io torno qua a coccolare il mio gattone e vi saluto, ciao MiciGatti e MiceGatte! Buonasera a tutti MiciGatti e MiceGatte, qui dovevo necessariamente rubare la frase alla buona Elisa di Miciogatto. Io sono il dottor Valerio Guiggi, medico veterinario, vedo già qualcuno che inizia a guardare la live. Intanto mi presento giustamente perché magari non tutti mi conoscono, io sono il dottor Valerio Guiggi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti di origine animale e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione sia del gatto che del cane. Quindi insomma mi sono, diciamo, ruba fuori le mie frasi, dai comincia Elisa di Miciogatto subito a importunarmi durante questa live. Bene, bene, mi fa piacere, mi fa piacere che per una sera, anzi la ringrazio Elisa di ospitarmi sulla pagina di Miciogatto per offrire quello che spero sia un servizio utile per tutti voi perché avrete la possibilità di sentire due discorsi, due chiacchiere insomma fatte da un professionista riguardo all'alimentazione del gatto. Abbiamo deciso di parlare di un problema specifico tecnico anche rispetto a quelli che avrete visto sulla pagina di Miciogatto trattato nella fiera a Torino un mese fa circa. Ecco, la FUS o FLUDT, se la dico così sicuramente non la capisce nessuno, parliamo di vescica del gatto, parliamo di cistite, parliamo di calcoli. Abbiamo deciso un argomento un po' più tecnico perché altrimenti parlo sempre degli stessi argomenti, ovvero di come leggere le etichette degli alimenti per gatti e quindi visto che siamo un sito serio e che ci occupiamo dei problemi seri riguardanti i gatti, abbiamo deciso di scegliere un argomento specifico, nulla vieta che in futuro ci siano altre live insomma dove parleremo di altri alimenti. Questa è una piccola introduzione fatta in modo da aspettare altre persone che eventualmente possono essere interessate alla live, abbiamo detto sette e mezzo, sono le sette e mezzo e poco più e magari qualcuno non è ancora arrivato. Quindi farò un po' una panoramica sul problema dei calcoli soprattutto alla vescica nel gatto, in particolare riguarda i gatti che vivono in appartamento rispetto ai gatti che vivono fuori, ma questo non è esclusivo, cioè ci possono essere anche dei gatti che vivono fuori casa che sono interessati da questo problema e soprattutto è uno dei classici problemi che si risolve sia con le terapie tradizionali, ovvero farmaci e chirurgia, sia con, soprattutto chirurgia, sia con l'alimentazione e l'alimentazione è importante non solo nel momento in cui c'è il problema, come insomma un animale che subisce un intervento chirurgico in cui si fa un'alimentazione particolare per tot tempo, poi quando è guarito basta, ma per un'alimentazione che segua, che si mantenga costante nel tempo, insomma che deve proseguire per tanto tempo perché un gatto sottoposto al problema di calcoli è un gatto che tende a avere anche in futuro questo problema, i problemi insomma tendono a ripresentarsi. Voglio dire che se avete qualche domanda, possibilmente inerente all'argomento, ma anche a domande di altro tipo, me la potete fare e se sono in grado di rispondere in diretta insomma vi rispondo ben bonentieri, insomma sono qui ecco. E mi fa piacere insomma che stiamo aumentando il vostro numero, quindi direi di cominciare a parlare dell'argomento che abbiamo scelto. Allora, i calcoli alla vescica. I calcoli alla vescica intanto sono un problema che si conosce bene anche in umana, insomma probabilmente conoscerete qualcuno che è stato interessato anche di persone dai calcoli appunto. I calcoli cosa sono? Essenzialmente sono delle concrezioni minerali, dei sassolini e tant'è che la parola calcolo in matematica deriva proprio dai sassolini perché usavano i sassolini per contare, questa è una curiosità. E sono a tutti gli effetti dei sassi, se ne avete mai visto uno, altrimenti potete cercare tranquillamente, calcolo su internet, su google, troverete proprio le foto di questi che sono, non ne ho ora a disposizione, ma sono proprio dei sassolini, dei sassi come quelli che si possono trovare per terra sul vialetto di casa. Sono delle concrezioni minerali esattamente come i sassi, sono tanti minerali, tanti atomi specifici di alcuni materiali che si trovano negli alimenti in misura bassissima, ma se si accumulano nell'organismo tendono ad aggregarsi fra loro e se rimangono tanto tempo nell'organismo tendono da piccolissimi microscopici a crescere, crescere, crescere sempre di più fino a diventare grandi. Ora, dov'è il problema dei calcoli? Dove sta? Essenzialmente nel fatto che il gatto non riesce a fare la pipì quando hai calcoli. Questo perché? Perché i calcoli generalmente si formano nella vescica e se si formano nelle prime vie urinarie, nelle alte vie urinarie, nei diureteri, cioè nel tubo che collega il rene alla vescica, vanno solitamente a finire in vescica. Ora, in vescica rimangono per parecchio tempo e rimanendo per un po' di tempo all'interno della vescica, cosa succede? Che il gatto continua a mangiare, mangia altri minerali, i minerali arrivano nelle urine, si depositano poi sopra a queste piccole concrezioni che diventano concrezioni non più tanto piccole, cioè che cominciano a crescere. In questo modo cosa succede? Che diventano sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi e a un certo punto il gatto cosa fa? Le elimina nel momento in cui la vescica viene svuotata, dovete immaginare c'è un muscolo fuori dalla vescica che la strizza praticamente e la pipì esce poi attraverso la vulva se è una femmina, il penese è un maschio e cosa succede? C'è un tubicino che collega la vescica all'uscita, al meato uretrale esterno si chiama. Ecco, questo tubicino si chiama uretra e viene praticamente bloccato da questi calcoli. Quindi questi sassolini si incastrano, dovete immaginare che è un tubo molto piccolo, io lo faccio grosso per farvelo capire ma è molto piccolo, in un gatto specialmente che ha degli organi anche genitali molto molto piccoli, questo tubo il calcolo si incastra nel mezzo e non riesce a passare, ma oltre a non riuscire a passare non fa passare nemmeno l'urina che c'è dietro la pipì, quindi di conseguenza la pipì rimane bloccata in vescica. Quando rimane bloccata in vescica la vescica ha una capacità massima, quindi si gonfia, si gonfia, si gonfia, quando non ce la fa più, la pipì comincia a rimanere stagnante non solo nella vescica ma anche nell'uretere, che è il tubo che collega la vescica al rene, fino a rimanere addirittura stagnante nel rene. Ora, nel rene fa pressione e la pipì che rimane all'interno del rene e che fa pressione sul rene lo danneggia. Siccome il rene ha un danneggiamento che non può essere riparato, cioè le cellule renali quando sono state danneggiate non ricrescono, questa pressione che fa la pipì sul rene può portare addirittura il gatto a morte in pochi giorni. Quindi nel giro di pochissimi giorni, nel giro di 4-5 giorni, da quando si è presentato il calcolo all'interno della vescica, il gatto può morire per insufficienza renale. Quindi questo è per darvi un attimo una misura della gravità della situazione. Ecco, come si riconosce un gatto che ha problemi di calcoli, tendenzialmente non fa pipì. O perlomeno ne fa pochissima, perché un pochino di pipì riesce a passare intorno al calcolo e quando un pochino di pipì riesce a passare intorno al calcolo, lui si vedono delle macchioline di pipì che rimangono generalmente fuori dalla lettiera, perché a un certo punto il gatto si stufa ad andare sempre nella lettiera a fare la pipì come fa di solito. Oltretutto, cosa succede? Che la pipì esce a gocce e si attacca di solito alla coda, rimane attaccata sotto alla coda e quindi il gatto magari mentre dorme queste goccioline cadono sul pavimento e quindi uno arriva a casa la sera e trova tante macchioline di pipì del gatto, molto molto piccole, non più di un paio di centimetri di ampiezza, ma si trovano disseminate in tutta la stanza e questo è già un problema, nel senso vedo il gatto che ha questo tipo di comportamento invece di fare la pipì come la fa di solito, mi devo intanto porre qualche domanda. Nella pipì ci possono essere tracce di sangue, sì perché i calcoli grattano le pareti della vescica e dell'uretra e quindi ci può essere anche del sangue, poi tutta la vescica è anche infiammata e il sangue può venire anche da lì, quindi ci può essere anche questo tipo di problema, vedere un po' di sangue all'interno della vescica, ma il sintomo più evidente è che il gatto sta di solito seduto e che ha un bel rigonfiamento davanti alla pancia, se si tocca è un po' come sentire un'arancia, come se avesse mangiato un'arancia intera, cosa che è impossibile, ma si sente qualcosa di duro, come se fosse un'arancia. Non è facile perché il gatto non vuole che gli si tocchi la pancia perché ha dolore, ma comunque c'è, è lì e si sente questa arancia, ecco. E quella è l'urina che fa pressione sulla vescica, ok? In queste situazioni cosa bisogna fare? La prima cosa è andare dal veterinario perché la vescica per prima cosa va svuotata. Il veterinario generalmente cosa fa? Intanto un'ecografia perché l'ecografia permette di vedere se ci sono i calcoli e soprattutto a che punto sono i calcoli di crescita. Quando i calcoli sono piccolini si parla di renella, pensando all'arena insomma che si trova sulla spiaggia, quando invece i calcoli sono grandi si parla di calcoli veri e propri e in questo caso si vedono dall'ecografia, si riesce a vedere cosa c'è dentro la vescica e si riesce a capire come agire sostanzialmente. Quando la situazione è abbastanza grave di solito si va a dicistocentesi, ovvero si va a infilare una siringa nella pancia del gatto, una siringa con ago, si infila nella pancia del gatto e facendo in questo modo praticamente si va a svuotare la vescica, questo non è risolutivo ma serve per dare sollievo al gatto. Immaginatevi di avere voi la vescica gonfissima, gonfissima proprio che non ce la fate più e non riuscite a fare la pipì, qualsiasi cosa vi dà sollievo, anche una siringa infilata nella pancia che toglie un po' di pipì. Questa operazione si chiama scistocentesi e di solito si fa una sola volta se non ci sono peggioramenti. Dopodiché si cerca di mettere il catetere sostanzialmente e il catetere che è un po' più grande rispetto alla dimensione normale dell'uretra, quindi del tubo che fa uscire la pipì, permette di far fluire via l'urina. Il catetere può essere tenuto anche per diversi giorni. A questo punto rimane il problema dei calcoli perché il catetere comunque non ci permette di eliminare i calcoli dalla vescica, non ce lo permette. Quelli più piccoli ci passano ma quelli più grossi non ci passano. Quindi come si agisce a questo punto? Beh, la risposta è dipende. Nei casi più gravi con l'intervento chirurgico, ovvero si fa un intervento al gatto, si apre la vescica, si tolgono i calcoli manualmente e si ricuce. Quindi in quella maniera il problema è sicuramente risolto, almeno per i calcoli più grandi. Se i calcoli invece sono piccoli si va di terapia. La terapia è prevalentemente alimentare, ci sono anche dei farmaci, più che anche sono farmacenti infiammatori per togliere l'infiammazione che si viene a creare alla vescica appunto a causa dei calcoli, ma oltre a questo viene fatta una terapia alimentare soprattutto. Lo scopo qual è? Lo scopo è essenzialmente quello di andare a creare un ambiente sfavorevole alla formazione dei calcoli. I calcoli non sono di un tipo solo, ce ne sono di diverso tipo, ad esempio ci sono i cristalli di struvite che sono i più comuni, i cristalli di ossalato, i cristalli di urato, i cristalli di xantina, i cristalli di cistina, ce ne sono veramente tanti e ognuno ha il suo modo, la sua risoluzione. Non per tutti c'è la stessa soluzione e anche l'alimentazione che va seguita quando ci sono i calcoli cambia in base al tipo di calcoli che il gatto insomma si è ritrovato. Questo cosa significa essenzialmente? Significa che quando andate a fare la terapia per i calcoli il veterinario ve li toglie poi vi deve dare informazioni specifiche sull'alimentazione. Nel caso in cui non ve le dia o liquidi la questione con utilizza il mancime renal consiglio assolutamente di sentire me o altri veterinari che si occupano di alimentazione perché vi possiamo dire l'alimentazione corretta in base al tipo di calcoli che è stato rimosso perché come ho già detto non tutti si risolvono nello stesso modo. Quindi gli alimenti renal che si trovano in commercio solitamente sono alimenti pensati per i cristalli distruvite quindi vanno bene in linea di massima se il problema sono i cristalli distruvite se i cristalli sono diversi non è detto che tutti gli alimenti scusate non renal urinary urinary perché i renal sono quelli per problemi ai reni mentre gli urinary sono quelli per i problemi relativi alle basse vie urinarie e quindi vescica non tutti gli alimenti urinary vanno bene per tutti i cristalli quindi in base alla situazione bisogna scegliere un alimento urinary diverso quindi non si può diciamo crogelarsi nel fatto che uno dice ok gli do l'alimento urinary e sono a posto insomma e non ho problemi da questo punto di vista no non è purtroppo non è così la situazione è un po più complessa e vi consiglio se avete ora o se avete avuto un problema di gatto con questo tipo di patologia comunque di sentire c'è una faccina che sorride comunque di sentire un veterinario che si occupa di alimentazione più che altro non tanto per l'immediato per cui va bene sicuramente anche il collega il vostro veterinario quanto per seguire perché i rischi di recidive nei problemi di calcolosi vesicale sono altissimi quindi questo questa è una cosa importante in linea di massima nei cristalli distruvite si va a cercare di eliminare quei minerali che potrebbero portare alla formazione dei calcoli principalmente il magnesio quindi se il gatto ha problemi di cristalli distruvite vuol dire che nella sua vescica c'è un sacco di magnesio deve andare a toglierlo con l'alimentazione quindi l'alimentazione va a privare di alcuni minerali che favorirebbero la formazione di calcoli nel caso invece in cui il calcolo sia diverso si va ad agire su altri minerali quindi se non è l'astrovite ma sono altri calcoli si va ad agire su minerali diversi rispetto a quelli per l'astrovite nel caso invece in cui il gatto non abbia dei calcoli si cerca di evitarne la formazione questo come si fa da un lato si fa acidificando le urine ok dall'altro cercando di fargli bere di più e fargli bere di più è l'imperativo per ogni gatto ma in particolare per i gatti sterilizzati sia maschi che femmine non c'è differenza perché la sterilizzazione e la castrazione tutte e due aumentano l'incidenza della calcolosi quindi è molto probabile che se avete un gatto castrato o una gatta sterilizzata prima o poi vi capiti questo tipo di problema quindi insomma tornerete a cercare questa live e se il far bere di più al gatto specialmente se è in appartamento specialmente se non è intero è un imperativo dovete cercare di far bere il più possibile il gatto come si fa a far bere il gatto? soluzione 1 con gli alimenti umidi perché l'alimento umido contiene più acqua e di conseguenza lui beve di più cioè mangiando beve di più altra soluzione può essere quella di un cuoricino grazie a chi me l'ha mandato non vedo chi è altra soluzione è quella di invia potete commentare qui sotto se fate delle domande o avete dei commenti in diretta le leggo perché li vedo altra soluzione per far bere di più il gatto è quella di umidificare i croccantini sembra una cosa banale ma mettere un po' d'acqua insieme ai croccantini e poi darli al gatto 10 minuti dopo che sono lì ecco permette di fargli ingerire più acqua cioè lui con ogni boccone di croccantini che prende prende anche un po' d'acqua la soluzione può essere quella di lasciare in giro per la casa più di una ciotola il gatto specialmente pigro e la ciotola dell'acqua là in cucina sempre a disposizione ma magari in cucina lui sta dormendo beatamente sul divano che si trova in sala è troppo difficile per lui partire e andare a bere nell'altra stanza quindi non beve la soluzione può essere quella di mettere più di una ciotola le ciotole per gatti sono piccole quindi non ci sono particolari problemi da questo punto di vista mettere una ciotola anche per stanza piccolina da una parte in un angolo che non dà fastidio e non ci si tira i calci quando si passa è un modo per indurre il gatto a bere questa soluzione che da qualcuno ovviamente da usare con moderazione è quella di aggiungere un pochino di sale all'alimento il sale attira acqua tendenzialmente stimola la sete e stimola la sete nel gatto e il gatto tenderà a bere un pochino di più chiaramente con questo non bisogna esagerare soprattutto se il gatto ha problemi con il sale quindi questa va presa un po' con le pinze però è un metodo che è valido specialmente se il gatto non ha problemi renali ma ha problemi vescicali e li ha già avuti questi problemi perché bisogna cercare di indurlo perché a quel punto si sa che il gatto è sottoposto a recidive cioè è sottoposto a problema per un gatto sano magari non è il caso di ricorrere a questo gesto estremo mentre umidificare i croccantini può essere sempre utile perché alla fine nulla toglie l'alimentazione normale del gatto all'alimentazione che state già fornendo al vostro gatto cosa fondamentale che molti proprietari fanno è che dopo che il gatto ha avuto un problema di calcoli ok sono subito spaventati tendono a dire no no assolutamente il veterinario mi ha consigliato questo alimento e quindi lo devo seguire e fin lì non ci piove due mesi dopo dicono ma sai cosa il gatto sta bene ma perché continuai a dare questo alimento andiamo in un altro al gatto tempo qualche settimana ritornano i calcoli perché quel gatto è sottoposto a avere i calcoli e se io ricomincio a dare un alimento che ha un sacco di minerale perché magari poi si cambia perché va di moda cambiare eh no ma mi ha detto il mio amico che quell'alimento lì è meglio più ganso più buono il gatto poi sta meglio ma non va bene per il tuo di gatti ma va bene per il suo ma non va bene per il tuo ricordo che l'alimentazione è sempre specifica per ogni singolo gatto e non tutti i gatti sono uguali ecco al tuo gli ritorno i calcoli al suo no perché magari non è sottoposto ma al tuo sì quindi devi fare attenzione quando fai un cambio alimentare anche semplicemente perché il gatto non mangia più l'alimento nuovo che gli hai dato beh è utile sentire sempre comunque il veterinario farsi dare soprattutto come faccio ad esempio io nelle consulenze dei paletti fissi mi raccomando quando cambia alimento guarda questo questo e questo valore ok non dico io prendi i croccantini tizio i croccantini caio o questa marca o quest'altra marca perché non ha senso parlare di marche in alimentazione ma do dei paletti dicendo devi fare attenzione in base al problema che è il gatto devi fare attenzione a questo parametro a quest'altro parametro a quest'altro parametro e questa è una cosa secondo me fondamentale molti veterinari alcuni molti veterinari non prestano attenzione perché magari sono legati per qualche motivo a una marca figuriamoci poi se vi affidate a dei di esperti che veterinari non sono vero Elisa visto che ne conosciamo diversi di esperti che si spacciano anche per esperti di alimentazione che i veterinari non sono e che possono avere conoscenze ma specialmente quando il gatto è in una situazione patologica non è il caso insomma di affidarsi a persone che non siano veterinari meglio ancora Elisa dice già vedo una serie di mi piace ci sono esperti in tutto ragazzi mi raccomando faccio un appello esola un po' da cosa quando avete qualche problema col gatto o col cane perché il cane affidatevi ai veterinari esperti di altro tipo possono millantare tutti i titoli che vogliano ma non sono veterinari io ho 5 anni di studio di medicina veterinaria più 3 anni di specializzazione quindi in tutto fanno 8 gli altri veterinari hanno la laurea più qualcuno ha i master qualcuno i dottorati che quindi abbiamo studiato tendenzialmente una decina d'anni per fare il nostro lavoro mi raccomando per piacere affidatevi ai veterinari non a altri presunti esperti mi raccomando e questo sia per l'alimentazione sia per le patologie ci mancherebbe sia per il comportamento se vi interessa abbiamo la dottoressa Elena Borrione che collabora con Micio Gatto chiedete a lei chiusa parentesi ma era importante continuando insomma con il mio discorso e andando un po' a conclusione del discorso che ho fatto sulla calcolosi sui calcoli sull'urolitiasi come si parla un cuoricino grazie spero che sia per le mie parole a l'urolitiasi del gatto è molto importante quindi è bere molto importante è che quando fate un cambio di alimentazione se il gatto è sottoposto a questo problema sentiate sempre altri mi piace benissimo mi fanno piacerissimo sentiate sempre chiediate sempre al veterinario se l'alimento che state per dare va bene o non va bene per i suoi calcoli grazie ancora di mi piace insomma che chiediate insomma al veterinario se quell'alimento va bene o no che se il gatto è sottoposto ai calcoli non fate niente di testa vostra dal punto di vista alimentare per quanto riguarda gli integratori acidificanti dell'urine sono importanti ma non esagerate rita vedo il tuo commento un attimo ti rispondo finisco il discorso vedo che stavo dicendo gli acidificanti sono importanti perché l'acido tende a rita per piacere leva il fissato in alto perché non riesco più a leggere la domanda così leggo ho un gatto maschio di un anno a cui primi di settembre non leggo altro devi dove chi si occupa insomma deve togliere il post fissato in alto se no non riesco a leggere eccola allora ho un gatto maschio di un anno a cui primi di settembre il veterinario ha riscontrato renella cristalli distruvite e cistite e da allora lo sto nutriendo con cibo umido e secco urinary anche ora essendo il calore purtroppo non riesco a leggere il seguito perché commenti troppo lunghi purtroppo non riesco a leggerli si scusa elisa avevo fissato io non fissare perché non mi diminuisce la parte che riesco a leggere comunque non riesco a a leggere purtroppo rita se mi puoi incollare solo la parte finale del commento così finisco di leggerlo mentre alessandra mi chiede se ad ansio c'è qualcuno beh purtroppo non posso sapere non posso conoscere tutti i veterinari che ci sono in italia come esperto di alimentazione a seconda di quel problema puoi contattare anche me per le consulenze poi se insomma se ci sono se ci sono possibilità cioè se ci sono necessità di un veterinario specifico che visiti il gatto allora insomma comunque ne parliamo contattami contattami che ne parliamo mi spiega un attimo il problema per quanto riguarda il discorso di bere poco per quanto riguarda il discorso di bere poco sempre li sto rispondendo un attimo ad alessandra l'ho detto prima come si fa per per farla avere un po di più quindi se torni indietro sulla live al momento che è finita la trovi circa metà live ne ho parlato faccio solo per non ripetermi insomma perché sta guardando per finire il commento elisa non riesco a leggere nemmeno così si è sbagliato alternare le varie marche di cibo urinari ok comunque o se ho inquadrato un attimino la domanda sì lo stavo per dire no non è sbagliato alternare le varie marche di cibo urinari anzi sarebbe opportuno alternare le varie marche perché per una questione generale è bene non alimentare tutta la vita di un gatto che magari ha altri dieci anni di vita sempre con la stessa marca urinari ok quindi se la ruoti è meglio secondo me assolutamente meglio è assolutamente consigliabile fra gli urinari nel caso in cui vuoi smettere di dare gli urinari devi sentire un veterinario mi raccomando gli urinari vanno bene per i calcoli da astruvite mi sembrava fossero da astruvite devo ricercare un attimo la domanda ma se non sbaglio renella cristalli distruvite sì ok quindi nel tuo caso va bene nel caso in cui invece avesse altri cristalli devi fare un pochino più attenzione approfondire un po insomma l'argomento niente quindi penso di aver esaurito abbastanza tutto parlato un attimo un discorso mi era rimasto in sospesso l'acidificazione delle urine l'acidificazione delle urine è importante perché esattamente come l'acido che date al rubinetto della vasca da bagno scioglie il calcare anche un'urina leggermente più acida impedisce la formazione dei cristalli piaco urinario è importante da questo punto di vista ma non bisogna esagerare perché dare troppi cibi acidificanti può portare alla un'acidosi nei casi più gravi nei casi un pochino meno gravi invece un troppo acidità fa sì che venga richiamato calcio nel sangue e che quindi si passi dall'astruvite ai cristalli di ossalato di calcio perché si comincia a accumulare il calcio nelle urine rispetto al magnesio quindi anche queste anche le integrazioni con acidificanti urinarie vanno bene ma a tenersi scrupolosamente alle informazioni perché l'esagerazione porta problemi da un altro punto di vista essenzialmente toglie dei calcoli e ne forma altri di altro tipo peraltro anche più rognose più difficile da eliminare ok questo insomma penso di essere stato abbastanza esaustivo sull'argomento magari mi sono a volte un po perso per via delle domande per via delle varie cose mi sembra insomma che ci siano stati un buon numero di spettatori vedo diversi mi piace questo mi fa piacere potete riguardare la live se avete domande potete farmele tranquillamente sul gruppo alimentazione del gatto che trovate collegato al gruppo di miscio gatto oppure me le fate insomma sulla pagina facebook come contattate tanto sono a disposizione sono un po lento con le risposte ma piano piano rispondo ecco se avete qualche domanda chiacchino un altro minuto e poi mi dilego che non ho ancora finito di lavorare per una serie di problemi che si trovano nella mia professione in modo abbastanza improvviso purtroppo e quindi devo ancora finire di lavorare fra l'altro ma visto che questa live era stata prevista non volevo assolutamente mancare a questo appuntamento se avete alcune domande insomma potete potete farmeli in questi ultimi pochi minuti vedo rita che mi ringrazia e io ringrazio te di essere di avere assistito insomma alla diretta in futuro ci sta che ne faremo altre oppure quando elisa va a qualche fiera magari che mi invita elisa mi invita sempre le fiere sono io che di solito non ci posso andare perché il lavoro troppo sono oberato di lavoro e niente quindi insomma quando ci sono fiere e ci sono anch'io elisa pubblicizzerà sicuramente la mia presenza quindi insomma se qualcuno mi vuol venire a conoscere solitamente insomma sono lì a disposizione tutto il giorno e rispondo alle domande un po' di tutti quelli che intendono partecipare altri articoli sull'alimentazione li trovate su un micio gatto mentre video più specifici sull'alimentazione del cane e del gatto se vi interessa li trovate sulla mia pagina facebook che è valerio wiggi punto no è ora cambiato nome è solo valerio wiggi ok valerio wiggi nutrizionista si chiama la pagina e niente potete venire lì una volta a settimana sul gruppo di micio gatto trovate un mio video a parte questa settimana che mi sia sfracellato il computer altrimenti trovate sempre un mio video relativo all'alimentazione quindi se una volta a settimana passate sul gruppo di micio gatto lo potete guardare spiego un po' di cose specifiche relativamente all'alimentazione del cane e del gatto visto che mi occupo di tutti e due bene io direi che siamo giunti alla fine vedo che domande non ce ne sono insomma e vi saluto e ci vediamo al prossimo video sul gruppo di micio gatto e alla prossima live che in futuro sicuramente rifaremo anzi se avete qualche suggerimento per l'argomento per un argomento che può essere interessante per voi insomma rendeteci partecipi rendete partecipe me rendete partecipe e lisa che saremo qui insomma a rispondere alle vostre domande è giusto per rubare ancora un po' le frasi visto che non ne ho di mie personali ciao a tutti micio gatti e micio gatte eu Grazie.